Ho deciso di non mettermi a farmare il Reaper per un semplice motivo, solo perché ho voglia di vedere come va avanti la storia. Mantengo il salvataggio comunque a punto post Reaper che così, se dobbiamo risfidarlo perché il boss finale dovesse essere difficile, lo facciamo in questo modo. Anche se devo dedurre sinceramente che questi tipi di oggetti siano oggetti che vengono dati per comunque una difficoltà maggiore, per la difficoltà ultimate diciamo. Quindi per il momento penso che comunque noi siamo messi in una maniera ottimale, abbiamo tutto ciò che ci può servire, penso che siamo arrivati al momento di finire questa serie. Abbia 231.000 yen, forse qualcosa, possiamo comprarlo. Allora vorrei prendere lui per la lama celeste, però tipo potenze e amplifica ghiaccio glieli vorrei togliere, tanto non ci serve. Satana ormai penso che ci serva relativamente a poco, nonostante Serpe Nera sia sicuramente un ottimo attacco. Forse porterei Loki ma sarebbe proprio portarselo in più e basta. E via, si prosegue. Cerca i Zanami. Ok, muoviamoci. Sì, questa è la zona dell'inizio della serie. La squadra ce l'abbiamo, andiamo. Buona fortuna. Che genere di posto è questo? Sembra diversa tutte le altre aree. Quando entriamo per salvare qualcuno riesco a percepire il suo cuore agitato e il suo malessere, ma qui non c'è nulla. Possibile che questa persona e i Zanami non abbiano cuore. Chi è davvero? Comunque Senpai, fai attenzione. La spada, l'ho detto, non mi piace, purtroppo. Bello come posto, comunque. Vediamo chi sono i nostri nemici di quest'area. Non che mi aspettassi qualcosa di diverso. Debole al vento e vento nulla. Perfetto. Ah, bene. La primissima mano arcana già nell'ultima zona. Che penso che ormai ci serva relativamente a poco, però. Vediamo però gli oggetti che otteniamo. Sanzu Tama. Vediamo, solo un attimo una cosa. Chi delle mie persone potrebbe beneficiare al momento di salire di livello? Beh, in realtà nessuno. Metatron, però. Che poi? Metatron ha un'abilità d'attacco fisico mica male. E nonostante questo è comunque una persona magica. Però l'abbiamo messo come persona fisica, quindi potenzia e amplifica ghiaccio lo toglieremo. La musica per essere una musica da zona finale è molto tranquilla. Si lascia molto andare. Vediamo comunque com'è l'ama celeste. Ah, così. Una spada. Non male. Bravissimo Kanji che arriva all'ultimo. Solo per fargli fare una mano arcana. Ah, beh, questa è buona. Questa è buona. Vediamo quanti soldi prendiamo in questa zona. Recupero tre. Beh, 6.000 yen. Perché dico dollari? Non sono male. E sinceramente non mi preoccupo neanche di consumare punti vita o comunque altre cose. Perché abbiamo Lucifero con Urlo di Trionfo. Possiamo stare tranquilli. Se però riusciamo in qualche modo a spostare Urlo di Trionfo ad altre persone, se qualcuno mi riesce a passare la carta, Yoshitsune, per esempio, gli togliamo carica che, come ho detto, non ci serve più, ha anche potenziamento. Yoshitsune può andare avanti tranquillamente da solo. È intoccabile. Riesce a fare l'attacco fisico. Uno degli attacchi fisici più forti di tutto il gioco, con Urlo di Trionfo, sarebbe veramente inaccessibile. È una zona comunque molto particolare. Non dico che mi ricorda la parte finale dei Memento. Però questo effetto cubico un pochino sì, un pochino me lo ricorda. Se devo dare una preferenza finale proprio a fine gioco, devo dire che nonostante comunque queste zone mi siano piaciute, nel senso che tutti i dungeon sono belli. La particolarità invece di Persona 5, che i dungeon sono unici, ognuno ha il suo stile, a parer mio è più... convolgente. Certo, a rifarlo più volte il gioco comunque conosci perfettamente tutti i dungeon e non hai nessun tipo di problema da ambientarti o trovare le cose. È vero, e qua invece il lungo è sempre randomizzato. Però il fatto che appunto siano tutti unici, che tutti abbiano quella zona nascosta dove c'è il seme, dove c'è tutte queste cose qua, ti fa, a parer mio, apprezzare di più il tutto. Perfetto. Metatron apprende anche a riflettifuoco, che non è un'abilità fondamentale perché già lo annulla. Però riflettere is good, is better than annulla. Riflette elettricità, riflette il fuoco. Ah, grazie Angelica, quindi siamo a posto. Riflette anche il ghiaccio, manca praticamente solo rifletti vento e riflette qualsiasi cosa. A parte la sua debolezza, l'oscurità. Eh, lì purtroppo dovremmo coprirla. Vediamo se ce l'abbiamo la carta, anzi. Sai che mi sa... Eh, abbiamo sopporta luce, sopravvivi oscurità, eccola. Dovremmo vedere se ce l'abbiamo da Maria, la carta. Oh, uno scarabeo diamantato. Debole solo all'oscurità, mentre a lui non gliene frega niente. Purtroppo non siamo riusciti a fare ad Alice, che credo fosse la persona ultima della morte, quindi al New Game Plus probabilmente mi concentrerò di più sulla vecchia. Stavo pensando che abbiamo ottenuto degli elementi probabilmente da dare ad Aidara, sconfiggendo questi nemici, ma noi non possiamo uscire da qui, non abbiamo modo di dargli, quindi spero che queste cose mi rimangano a fine gioco. Ne dubito, però. Siete qui, ma non siete in preda al terrore. È coraggio e ignoranza. Molto bene, vi aspetterò al termine dello Yumatsu Irasaka. Eri Zanami, manteniamo la calma. Forza, Senpai. Chissà quanti piani ha. È l'ultimissimo dungeon, tra cui anche proprio, diciamo abbastanza segreto, visto che se non dici le cose giuste all'ultimo giorno, questa zona probabilmente la salti. Quindi potrebbe essere il dungeon con più, con più piani che abbiamo visto fino ad ora. Ci sono un sacco di ceste in questa zona, ma non ho ancora trovato niente che valga veramente la pena di essere preso. Proviamo con questo forzene dorato, vediamo se c'è qualcosa di buono. L'occhio d'aquila. L'illusione agli attacchi fisici. Non male, però non è sicuramente la prima cosa che sceglierei. Magari un tipo deboluccio, tra virgolette, come potrebbe essere Yukiko agli attacchi fisici, potrebbe beneficiarne, però non lo so. Mano arcana, vediamo cosa otteniamo di buono. Niente di eccezionale, ma lo accetto lo stesso. Per fortuna che ci sono questi che sono deboli agli attacchi fisici e mi semplificano un sacco l'ottenimento di mani arcane, veramente. Ancora le scale, proseguiamo. Ora capisci finalmente, questo corridoio l'hai già visto, vero? Sì, ciò che hai visto in sogno quella notte era il risultato del risveglio del tuo potere. Sarà stato il destino a volere che ora io attenda il tuo arrivo? Era di nuovo i zanami. Senpai, è vero quello che ha detto? Non importa, chiunque sia il nostro nemico dobbiamo combattere, giusto Senpai? Eh già, sapevamo fin dall'inizio che questa sarebbe stata sicuramente l'ultima zona che avremmo visitato. Non sapevamo quando sarebbe successo. Oh, lo immaginavo. Attenzione Senpai, c'è qualcosa più avanti. Vuoi aprire la porta ad entrare? Vai. Che novità. Il potere che hai ottenuto è la tua determinazione all'affrontarmi. È ora di saggiare la loro forza. Vieni allora. Oh, incredibile. Qualcuno che mi attacca per prima mi fa così tanto male. Non male. Ok, vediamo a cosa sei debole. A nulla, ovviamente. E ha solo attacco furioso. Va bene. Avrei dovuto fare frenesia del drago. Non importa, la carica ci rimane comunque. Detto questo, curiamoci che non si sa mai. Ecco fatto. Poi, trombettier. e a te ovviamente ti debilito. Abbiamo concentrazione e carica attiva. Utilizziamoli al meglio. Fivello. Detto ciò, ma sì, facciamolo. Tanto questo qua sta attaccando tutti, voglio dire. Già che ci siamo, così otteniamo anche il turno per C per fare la frenesia del drago. E così non perdiamo neanche la carica. Dragon? Bella l'animazione comunque. Bon, perfetto. E ora chi meno? Kaboom! Porca troia, questo lo devastiamo. L'arma celeste! Porca troia. Hai capito, Yukiko, comunque che male che ha fatto. E non era neanche concentrata, eh? Kaboom! Yukiko ha fatto 2000 di danno, ma capiamoci un attimo. Vai, Gie, spaccalo! Yukiko e Gie fanno male. Fanno veramente male. Fammi vedere, chi mi manca a livello 99? quindi non è bastato a piegare la tua volontà. Vieni allora, anche se l'unica cosa che otterrai sarà prolungare le tue sofferenze. Pivello. Certo che Cie è Yukiko, però cazzo. Capisco Cie che era caricata, ma Yukiko che fa così ha gratis un 2000 passa di danno. Mano arcana, vediamo cosa otteniamo. Ok, altra mano arcana. Questa è un pelino bruttina, eh. Mano arcana, sempre bella accetta. Oh, finalmente le scale. Siete riusciti ad arrivare fino a qui? Disperazione, vacuità, speranza. Sono le tre qualità in base alle quali seleziono chi viene da fuori. Avete dimostrato la più forte delle tre. Non mi aspettavo nulla di meno. In questo caso metterò la prova personalmente e direttamente il vostro potere. Le tre qualità si riferisce per caso al senpai in Amatami ad Adachi. Izanami ha visto queste qualità in loro. Quale sarà mai il suo potere? Quindi siamo... No, non siamo ancora arrivati alla zona finale. Oh, il braccio della giustizia. Debole al ghiaccio. Ecco fatto. Madonna mia. Critici su critici oggi, eh. Tanto siamo all'ultimo all'ultimo cavolo di dungeon ci sta che mi che mi sparano mani arcani così aggrati oggi. C'è comunque vestita cheerleader. Meraviglia. Allora, mano arcana che cosa otteniamo? Ok, ok, non è quello che avrei voluto però accetto la numero 9 che è Marakakarn. Forse è dorato invece Essenza della difesa. Aumenta la resistenza di 10. La madonna. Certo, non mi aspettavo di meno da un oggetto con quel nome però... Debole al vento. È da un po' che non utilizzava un piodino effettivamente. altra mano arcana ok, questa è un po' così ma tanto i punti esperienza attualmente ci fregano relativamente quindi vediamo cosa è in servo per noi. Tanto ormai sono tutti al 99 l'unico che deve aumentare il livello sono io ma è anche quello relativo nel senso se aumento le statistiche va benissimo uguale. Maschera del castigo maschera veritiera maschera celeste maschera del castigo del 20% di riflette attacchi fisici wow che bello proprio roba da ultima ultima parte del gioco per carità in realtà sì nel senso l'abilità comunque è utile capiamoci altra mano arcana gratuita compro nulla di utile ecco quale scale trovo inconcepibile che entrare così a fondo nel mio reame non vi abbia fatto alcun effetto uno non aveva gli occhi per vedere la realtà e non è riuscito a risvegliare il suo potere uno ha scelto di ignorare la realtà lasciando che il male contagiasse il suo potere risvegliato ma costui è giunto fino a qui eppure ancora desidera la verità ancora combatte pare che Zonami sia sorpresa dal potere del senpai anche se è stata lei ad averlo risvegliato forse il potere del senpai è più grande di quanto potessi immaginare beh i Zanami e i Zanagi alla fine sono complementari beh che dire una mano arcana data dal drago gemello altra cesta dorata vediamo Tsubaki Otoshi mi spiace già ottenuto il meglio che potevo volere chance di critico bassa però voglio vederla oh e che cazzo questa è una katana dio mio mi spiace ho già di meglio con chance di critico alta però grazie lo stesso certo è più brutta questa però mano arcana dammi qualcosa di buono beh grazie Marie che appari all'ultimo un'ombra salta fuori sai che novità finalmente sei apparso sapevo che sareste uscito fuori prima o poi non sei debole a nulla quasi quasi ci provo vai Kaguya visto che abbiamo appena detto di Marie un bel mammon a tutti e me li levo tutti dalle scatole una botta sola solo uno l'abbiamo mancato che per fortuna è debole l'attacco fisico anche se non avessimo usato Marie avremmo ottenuto comunque un bel una bella mano arcana più che altro riesce a schivare tutto sto stronzo tac 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 e tac che carta abbiamo ottenuto ma mudon non è certo ciò che avrei voluto ma lo apprezzo lo stesso ed ecco le scale vediamo sesto piano perché perché ti opponi a me non ho scelto tre pedine a caso tutto serviva a comprendere il vero desiderio dell'umanità ho imparato che gli umani preferiscono le menzogne alla verità e così ho deciso di realizzare i loro sogni avvolgendo il mondo nella nebbia è vero ci sono molte cose che non possiamo vedere e alcune che non vogliamo vedere però questo non vuol dire che tutti desiderano vivere nel buio i zainami si sbaglia dobbiamo mettere fine tutto questo io vorrei mettere fine questo dungeon è veramente lungo tutte le cacchio distanze non finiscono mai sono come i rotoloni ok il re fatto di cristallo e due orsetti dunque debole al vento e lui debole all'elettricità si può fare ecco fatto altra mano arcana gratuita cosa otteniamo amplifica ghiaccio niente di che però grazie sono carte che è un po' arrivato a questo punto si se non hai ottenuto già ottieni alla fine questa sensazione c'è qualcosa più avanti attenzione senpai col singhiozzo vuoi aprire la porta vai un tavolo l'umanità ha scelto ciò che ti circonda e qualsiasi forza tu possegga anche essa rimane nei limiti umani non potrai mai superarmi impara è un tavolino che cazzo speri di fare ti giuro che sei l'unico a subirne gli effetti dio mio comunque non sembra essere chissà cosa penso di poterlo fare facile trombettiere e debilitiamolo penso di non avere nessun tipo di difficoltà a tirarlo giù questo ora penso di poterlo fare con gli uscitsune ma penso che quasi quasi vediamo sai che sì mi sa che devo farlo io per forza forse dovevo caricare e concentrarmi infatti ho fatto un po' lo splendido e dovevo aspettarmi che fosse resistente però non ho nessuna preoccupazione ora la 2000 di vita cioè capiamoci si fa facile facile questo certo gli abbiamo tolto poco perché appunto è resistente però scoltami non sei certo il nemico più difficile che ho dovuto affrontare anzi nel cavolo di dungeon di di kaguya ah di kaguya si di marì ho avuto molte più difficoltà decisamente molte più difficoltà chi mai vorrebbe un mondo avvolto dalla nebbia noi no di certo e so che neanche nanako chan e dojima san sarebbero d'accordo non le permetteremo di fare quello che vuole vero senpai certo se no cosa siamo qui a fare il gundam di tipo luce resiste a tutto ma è debole elettricità e ovviamente lui è l'unica cosa che resiste va bene tiriamo fuori allora tor che da un po' che non lo tiravamo fuori tuono prorompente ecco torno prorompente è l'unica abilità a cui non l'ho messo lo dovevo immaginare dicevo è l'unica abilità a cui non ho messo signore della magia per ridurne gli effetti ecco fatto sperando in una mano da parte di rise bravissima e via dovremmo riuscire a tirarli giù ora vediamo ok resistenti ma non abbastanza orsiere dorato che cosa troveremo una spilla attaccafuzzo riduce i danni da elettricità del 50% beh se non riesce a schivarlo certo può essere buono scale oh finalmente settimo piano stolto anche se conoscerai la verità essa non porterà gioia alla gente per l'umanità è meglio far tornare il mondo al vuoto originario dove non è necessario voltare gli occhi alla realtà ci sarà unicamente una nebbia fitta e ombre striscianti una calma pace tranquilla che durerà in eterno tutto questo è stato deciso e scelto dall'umanità obbedirò alla loro decisione nebbia fitta e ombre striscianti quindi in sostanza vuole distruggere il nostro mondo non abbiamo idea di cosa stiamo per affrontare ma qualsiasi cosa abbia in mente Zanami dobbiamo fermarla esatto ah eccoti aspettavo giusto giusto di vederti quindi debole al ghiaccio e tu debole solo al vento una preda facile insomma per per Naoto questa mano arcana beh nove di denari mica male tanto i punti esperienza neanche ci servono via uno due tre se usciva un nove di coppe avevamo il tris in mano devo dire che il potenziamento che dà Rize durante il colpo finale che facciamo secondo me come abilità è molto più utile di molte abilità che ha anche solo Futaba certo Futaba non ho nulla da dirle contro è un ottimo support però Rize con questo potenziamento soprattutto aumentabile di intensità dopo che l'abbiamo portata alle terme a parer mio ha un effetto maggiore e Yoshitsune sale di livello non che gli serva però orsiere dorato con all'interno una sfera dell'audacia ho sentito il nostro amico Riperino ce ne abbiamo ancora di ceste si ce ne sono due quindi speriamo che una di quelle abbia dentro un nemico non mi dispiacerebbe riaffrontarlo anche se siamo nel dungeon più difficile sfera dell'audacia previene paura wow ok questo è dorato quindi lasciamolo un attimo da parte sono tutti e due dorati che fregatura Voto a cura Okami voto a cura Okami danni da ghiaccio beh non sarebbe male allora se riuscissimo a trovare quello che aumenta i danni da fuoco e lo diamo a Yukiko col 50% più di danni già Yukiko fa la madonna col 50% vestito di Uzume vestito di Uzume 100 HP beh oddio certo il mantello amuleto non è male ma ci è così si becca un bel boost di HP che può sfruttare con 33 di illusione poi cioè capiamoci che sfiga potevamo ricombattere di nuovo il Reaper ed ecco le scale che sfortuna testardi fino alla fine allora combatterò con tutte le mie forze per il bene dell'umanità siete solo una manciata che si oppone al volere di molti la vostra forza è straordinaria ma siete un'eccezione non vi manca molto per raggiungermi forza venite come ha detto percepisco una forte energia in fronte a noi questa è veramente l'ultima battaglia rimani in guardia senpai ok quindi questo è il penultimo piano per forza dai altro forzine dorato non che vi dispiaciano per carità però rosa congelata meno danni dagli attacchi di ghiaccio rosa congelata previene furia ed ecco le scale questo giro è stato il piano più facile da fare questo eccoci l'ultima zona che visiteremo in questo gioco è giusto per diciamo dare un po' di giustizia a tutti a parte teddy voglio che tutti abbiano il vestito predefinito tanto non lo vedremo teddy però giusto anche per rispetto proprio alla fine di questa serie però prima torniamo a casa ci curiamo cambiamo quello che dobbiamo fare non deve essere stato facile che decide prendere fiat prima di riprovare diamo un'ultima occhiata alla stanza di velluto consegniamo le carte che dobbiamo e poi si va grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti